Io avevo un profilo Instagram, mio profilo personale, che avevo creato con lo scopo della moda, facevo degli outfit dove presentavo anche attraverso questo negozio, questo profilo nell'arco del tempo è cresciuto e è arrivato a 11.000 utenti. Quindi questo profilo è cresciuto nell'arco di due anni. Cosa succede? Succede che sabato mattina mi sveglio con un messaggio da parte di Facebook, la scritta FB su un palino blu, che il profilo mi è stato acchierato, che devo cambiare password e email altrimenti il profilo mi viene cancellato. Ingenuamente, ok, ho fatto questa cosa anche perché non mi scrive qualunque persona, mi scrive Facebook, mi scrive Instagram, quindi non sto a pensare molto, anche se avevo 24 ore a disposizione per fare tutto ciò. Io cambio la password e nell'arco di due ore il mio profilo sparisce dalla piattaforma di Facebook. Sparisce dalla piattaforma? No, perché praticamente io riesco a rintracciare l'hacker. Come riesco a rintracciare l'hacker? Mi cambia il profilo e sopra il profilo mi mette un nome strano, YAH, una roba del genere. Io da quel profilo vado su Instagram, cerco di fare delle ricerche, delle cose e risalgo a un suo amico su Facebook e anche su Instagram. Tra i suoi amici trovo questa persona e tra l'altro, in concomitanza con questa cosa, inizio a scrivere con l'hacker che mi ha rubato il profilo. Inizio a scrivere in inglese e domando di darmi indietro il profilo, praticamente. Mi risponde Bella Ciao, con una maglietta, con la scritta su Bella Ciao. Mi risponde I am Mafian Italian. All'ah, abah, delle parole che non capivo il significato e non voglio neanche capire il significato. Questo profilo successivamente cambia nome in Instagram, due M finali, dopodiché sparisce nel nulla. Io non lo vedo più attualmente, non lo vedo più dal mio profilo, non lo vedo più dal profilo Manufactu, non lo vedo più dal profilo dei miei amici, non lo vedo più da nessuna parte. Questo profilo praticamente è sparito definitivamente. La rabbia di quello che sta succedendo è che io ho lavorato due anni per far crescere questo profilo con 11.000 utenti. Mi occupavo della moda, mi occupavo di far crescere l'introito anche di questo negozio, perché no, mostrando gli abiti, mostrando tutto quanto. E la rabbia, la frustrazione è che Instagram a tutto questo non ha risposto neanche a un'email. La polizia postale, anche loro hanno i tempi abbastanza lunghi per fare la denuncia, che sicuramente è stata fatta ed in questo momento probabilmente stanno controllando, è che questa persona dello spettacolo, perché è una persona dello spettacolo, questa persona che mi ha rubato l'account, è un ragazzo turco che ha migliaia di profili. Io me ne sto rendendo conto che a questa persona adesso gli sto dando notorietà, quindi ha ancora più fama. Però quello che mi interessa è che venga depistata, che venga trovata e che il mio profilo mi torni indietro, perché è giusto che sia così, e che le autorità di competenza facciano quello che devono fare.